Cari spettatori, amici del Mariettè, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamato, nella prima parte del programma venuto direttamente del Cairo la famosissima Molita del Sudan, una danzatrice del vento, accompagnato, come sempre, della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego maestro, a lei. Prego maestro, a lei. Prego maestro, a lei. Sono otto, sono otto di Catania, sono arrivato a Roma venti anni fa, sono qui per vivere, per vivere la mia vita, per mangiare, per rosso buco e rivivino. Ma tutti questo giorno, voglio inventare tutti gli amici miei, per celebrare la mia vita. Amici grazie, grazie per venire, grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la Sirena. Grazie per venire, è il mio nome otto di Catania, sono arrivato venti anni fa. Grazie per venire, grazie per venire, grazie per venire. Grazie per venire, grazie per venire.